C'è stata tensione al Consiglio dei Ministri, Draghi poi ha trovato una mediazione con la Lega che aveva respinto con forza la prima bozza del decreto che prevedeva sia l'obbligo vaccinale per gli over 40 che il super green pass per accedere ai servizi ed entrare nei negozi. I provvedimenti, ha detto il Premier, servono a preservare gli ospedali, l'economia e salvare vite. Sale la pressione sugli ospedali e i servizi sanitari in alcune regioni rischiano di andare in tilt. I dati del contagio in forte aumento nell'ultima settimana hanno portato ad un incremento di ricoveri con sintomi del 28% e del 21,6% negli accessi in terapia intensiva. Non decollano i vaccini tra i bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, in tre settimane somministrate solo 400.000 dosi. Situazione esplosiva in Kazakistan, nel paese travolto dalle proteste per l'aumento dei prezzi del gas, negozi saccheggiati, edifici governativi presi d'assalto e dati alle fiamme. La polizia spara sulla folla, uccidendo decine di persone. Mosca e i suoi alleati inviano soldati per stabilizzare la situazione. Per il Cremlino si tratta di un tentativo di destabilizzazione organizzato dall'estero. Un anno fa l'assalto al congresso americano. Trump ha disdetto l'annunciata conferenza stampa mentre Biden denuncerà oggi la straordinaria responsabilità avuta dall'ex presidente degli Stati Uniti nel caos e nel massacro del 6 gennaio dello scorso anno. Il procuratore generale Garland vuole portare a processo sia chi era presente che i responsabili. Serie A dimezzata dal Covid. Oggi non si disputeranno Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Bologna-Inter e Salernitana-Venezia. Si giocheranno invece regolarmente i big match Milan-Roma e Juventus-Napoli. Intanto l'Australia ha deciso di ritardare l'espulsione di Djokovic che ha presentato ricorso per essersi visto negare l'ingresso nel paese a causa della violazione delle norme anti-Covid. Buongiorno e benvenuti al Telegiorno della Sette. Sicuramente iniziamo dalle nuove misure anti-Covid che sono state varate ieri dal Consiglio dei Ministri dopo una lunga mediazione. Dunque il provvedimento più importante è sicuramente l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, ovvero quella fetta della popolazione che più rischia di andare a gravare sulle strutture sanitarie e sugli ospedali in caso di Covid. Poi ci sono state anche altre misure per entrare alla posta in banca oppure andare dal parrucchiere occorrerà avere il regolare Green Pass, ossia quello che si ottiene anche con un tampone. Infine ci sono nuove regole per le scuole. L'obiettivo del Governo è quello di rallentare la crescita dei contagi e di tutelare le categorie più fragili. Alla fine il giro di vite con le nuove misure anti-Covid è arrivato. Il decreto varato all'unanimità da Palazzo Chigi prevede l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che hanno compiuto 50 anni. Sono considerati in questa fase parte della categoria con il maggior rischio di ospedalizzazione nel caso in cui contraggano il virus. L'obbligo vaccinale immediato dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale e per chi non lo rispetta dal prossimo primo febbraio scatterà una multa di 100 euro. Tra i cinquantenni almeno un milione manca all'appello degli immunizzati, mentre tra i sessantenni i non vaccinati sono circa 630 mila, fasce della popolazione ancora attive che per accedere ai posti di lavoro entro il 15 febbraio dovranno mostrare il Super Green Pass previsto solo per vaccinati o guariti. Una regola adesso introdotta anche per tutto il personale universitario, mentre l'obbligatorietà è già in vigore per i lavoratori della scuola, il personale sanitario, forze dell'ordine e militari. Sul luogo di lavoro chi risulterà sprovvisto del certificato rafforzato rischia una multa dei 600 e 1500 euro. Anche il datore di lavoro che omette controlli è sanzionabile con multe dei 400 e 1000 euro. Per i locali pubblici dopo tre infrazioni possono scattare 10 giorni di chiusura. Dal 10 gennaio intanto il Green Pass rafforzato servirà anche per partecipare a cerimonie civili o religiose, congressi, sagre e fiere. Indispensabile sarà anche per accedere a palestre, centri culturali e ricreativi e ristoranti anche all'aperto. Il Super Certificato Verde servirà anche per viaggiare in aereo, treno, nave e sui mezzi di trasporto pubblico locale. Il certificato verde base, quello che si ottiene con vaccino, tampone o se guariti, sarà indispensabile per andare dal parrucchiere, dal barbiere e dall'estetista. Dal primo febbraio sarà necessario avere il Green Pass anche per accedere agli uffici pubblici, banche e poste. Chi non è vaccinato potrà entrare solo in farmacia o nei negozi di alimentari. Ecco, dietro l'approvazione all'unanimità della nuova stretta in Consiglio dei Ministri, in realtà si è consumato un duro scontro all'interno delle forze politiche che costituiscono la maggioranza. Per un partito democratico che chiedeva l'obbligo vaccinale Tucuri, insomma, per tutti senza distinzioni di età, c'era invece una Lega che ha respinto in toto la prima bozza del provvedimento. Affermarsi all'apparenza il nuovo decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 è stato approvato all'unanimità, tutto bene, governo Draghi compatto. In realtà per l'attuale Presidente del Consiglio quello di ieri è stato uno dei consigli dei ministri. Più faticosi con la larga maggioranza che ha rischiato, più volte la rottura, perché al tavolo i partiti si sono presentati in ordine sparso senza una posizione condivisa, anzi pronti a far valere le proprie ragioni fino alle estreme conseguenze. Un primo segnale. È stata l'assenza giustificata da impegni personali del capodelegazione della Lega, Giorgetti. La minaccia di Strappover è proprio arrivata quasi alla fine quando il carroccio, dato il suo via libera all'obbligo vaccinale per gli over 50, detto no all'estensione del Super Green Pass per negozi, banche, poste e parrucchieri. Uno stop comunicato dal ministro Garavaglia dopo consultazione telefonica a consiglio in corso direttamente con Salvini. La Lega trova una sponda nei 5 Stelle e Draghi Media per accedere in quei loghi. Basterà per chi non ha 50 anni esibire il Green Pass, cioè fare il tampone, una concessione limitata ma comunque subita dagli altri alleati. La Lega è il responsabile, bisognava estendere l'obbligo vaccinale a tutti, dice oggi Simona Malpezzi, capogruppo in Senato del Partito Democratico, mentre il suo predecessore, Marcucci, mette in evidenza l'entrata in vigore dell'obbligatorietà per la fascia più adulta come successo del Partito Democratico che ha vinto dubbi di Lega e Movimento, una posizione condivisa dal ministro di Forza Italia Brunetta. Cinque Stelle che in realtà a Palazzo Chigi si sono ritrovati con ministri schierati su posizioni diverse, su obbligo vaccinale, regole per entrare in negozi, quelle su scuola e lavoro a distanza. Solo una telefonata tra Conte e Draghi sempre a lavoro in corso nel bel mezzo del Consiglio ha sbloccato lo stallo. Un tira e molla tra partiti che avrebbe infastidito Draghi finito nel mirino delle opposizioni. Per la leader di Fratelli d'Italia Meloni il governo sta introducendo provvedimenti liberticidi. Nessuna grande nazione nell'intero globo è arrivata a tanto in Francia. Il Parlamento ha subito stoppato il tentativo di Macron di emulare Draghi ed è quello che proveremo a fare anche noi quando questi provvedimenti dovranno essere votati l'attacco di Meloni, mentre per frato i anni di sinistra italiana il governo è nel pallone. Non fa i conti con la realtà, il vaccino è l'arma più potente, ma da solo non basta le sue parole. Le ragioni delle nuove misure di contenimento sono state spiegate dallo stesso Presidente del Consiglio in apertura del Consiglio dei Ministri. Occorre, ha detto Mario Draghi, tutelare il buon funzionamento degli ospedali e cercare di mantenere aperte le scuole e anche il tessuto economico. Naturalmente questi sono obiettivi che appaiono sempre più difficili in giorni in cui ancora non si è toccato il picco dei contagi. Ogni ora aumentano vertiginosamente le persone ammalate. Sotto il peso della variante Omicron, che moltiplica i contagi, gli ospedali adesso rischiano di finire davvero in affanno. Nell'ultima settimana i ricoveri nei reparti ordinari sono aumentati del 28% del 21% nelle terapie intensive. A dirlo sono i dati resi noti questa mattina dalla Fondazione Gimbe. A livello nazionale così l'occupazione è arrivata al 21% per i posti letto dei pazienti meno gravi, segnando nelle ultime 24 ore una crescita in ben 13 regioni. Quelle più in difficoltà con gli ultimi ricoveri sono la Calabria, Liguria, Umbria, Piemonte e Sicilia. Qui siamo a Palermo, dove nella notte accanto all'ospedale Cervello è stato montato un ospedale da campo dopo una giornata difficilissima, con le ambulanze in fila per ore davanti al pronto soccorso. Una soluzione di emergenza fino a quando non saranno riconvertiti due reparti per destinarli ai pazienti Covid. Ma preoccupa anche la situazione delle terapie intensive in Veneto, che è il 20% dei posti letto occupati contro un limite massimo fissato al 10. Piemonte e Lazio sono al 19%. Una conseguenza dell'aumento rapidissimo dei nuovi positivi dovuto all'ultima mutazione del virus. Gimbe certifica che in 7 giorni l'incremento è stato del 153%, 1.260.000 gli attualmente positivi, praticamente raddoppiati rispetto alla settimana precedente. Sono 63 le province che hanno più di 1.000 casi ogni 100.000 abitanti. Spiccano Firenze, che raggiunge addirittura i 3.058 casi, e l'Odi 2.700. Si impenna così il tasso di positività che dal 2,8% passa all'8,2. Ma sono in aumento anche i decessi che registrano una crescita quasi del 9%. Nelle ultime 48 ore si sono contate circa 500 vittime, 1.185 in una settimana. Ieri la curva della pandemia ha toccato un nuovo picco di contagi, quasi 190.000. La Lombardia ha superato i 51.000, altre 5 grandi regioni sono sopra i 16.000, ma anche oggi i dati che arrivano dai diversi territori non sono affatto buoni. In Veneto si contano più di 18.000 positivi, mai così tanti. Oggi si rischia di raggiungere a livello nazionale i 200.000 nuovi casi. Si prova ad arginare con i vaccini, oggi è stata emanata la circolare per la terza dose ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Il booster sarà ad un terzo del dosaggio, come già per la fascia fino agli 11 anni, e sarà somministrato a partire da quattro mesi dal ciclo primario. In tutto questo c'è anche chi minaccia i medici. L'immunologa Antonella Viola, direttrice dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza di Padova, è finita sotto scorta dopo aver ricevuto due giorni fa una lettera di minacce con all'interno un proiettile spedita presso il suo studio. La ricercatrice si è più volte espressa a favore della vaccinazione dei bambini e ha ricevuto in queste ore numerosi attestati di solidarietà. La procura di Padova ha naturalmente avviato una indagine. Il governo dunque che tenta in ogni modo di mantenere aperti gli istituti scolastici. Tra poco finiscono le festività natalizie, i ragazzi torneranno sui banchi. Il governo Draghi pensa che questo sia assolutamente necessario. Eppure ci sono molte voci, tra cui quella dell'Associazione dei Presidi, che chiedono invece di rimandare questa apertura, di fare slittare un pochino in avanti due o tre settimane in modo che ci sia una maggiore copertura vaccinale innanzitutto e anche perché ci sono tantissimi insegnanti che in questo momento sono a casa ammalati di Covid. Sarà un rientro in ordine sparso nelle scuole italiane, oltre che con nuove regole per le quarantene. Molte regioni hanno deciso in autonomia di rinviare al 10 gennaio il rientro in classe dopo la pausa natalizia. Il governo ha scelto di non posticipare l'apertura, già fissata tra domani e lunedì nei vari istituti scolastici, anche se molti governatori avevano chiesto di passare da un parere del CTS. Domani cominceranno solo gli studenti di Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Marche-Toscana e della provincia autonoma di Trento. Tutti gli altri torneranno lunedì. Il Consiglio dei Ministri ieri ha varato nuove regole per le quarantene che tengono conto dell'immunizzazione o meno della popolazione scolastica. In asili nido e materne, dove i bambini non sono vaccinabili e non indossano mascherine, un caso di positività fa partire una quarantena di 10 giorni per la classe. Nella scuola primaria con un caso di positività si rimane in classe, ma con una sorveglianza che prevede un tampone T0 antigenico molecolare quando viene segnalato il caso e un altro dopo 5 giorni T5. La didattica a distanza si applica invece con due o più positivi per 10 giorni. Nelle scuole medie e superiori con un positivo si rimane in classe in autosorveglianza indossando mascherine FFP2. Con due casi resteranno a casa gli studenti che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da più di 120 giorni. Seguiranno la didattica digitale integrata. La didattica a distanza comincia per tutta la classe con tre casi per 10 giorni. I dirigenti scolastici dovranno poi fare i conti con le assenze di professori e personale non docente per contagio quarantene. Rapportando la media nazionale agli 1,2 milioni di lavoratori della scuola si stima che almeno 20 mila siano attualmente positivi. Ma la preoccupazione maggiore è contenere i contagi che stanno dilagando nella fascia 0-19 anni. I dati dell'ISS indicano che rappresentano il 24% del totale dei positivi, la situazione più complicata per i bambini tra 5 e 11 anni. La campagna vaccinale è partita al 16 dicembre e per ora solo il 10% all'immunizzazione contro il 75% della fascia 12-19 anni. Scuole che del resto rimangono aperte un po' in tutta Europa, anche in quei paesi come la Francia dove ormai si viaggia al ritmo davvero molto sostenuto di circa 300 mila nuovi contagi al giorno. Più che chiudere bisogna vaccinare, insiste Emmanuel Macron, il presidente al centro di una bufera in queste ore per essersi scagliato senza mezzi termini contro i Novavax. Invece a Bruxelles la presidente della commissione Ursula von der Leyen che nei giorni scorsi aveva evocato nuovamente la possibilità di un obbligo vaccinale. Oggi rivendica il lavoro svolto anche nei confronti di quei paesi che hanno meno accesso alle vaccinazioni. Se l'unica speranza di uscire dal Covid è vaccinare più persone possibili in più paesi possibili, l'annuncio di Ursula von der Leyen oggi è un incoraggiamento importante. La presidente della commissione tira un bilancio per il 2021. Avevamo promesso al mondo 250 milioni di dosi, ne abbiamo offerte 380 milioni, anche grazie allo schema COVAX. Siamo i primi donatori al mondo e per il primo semestre del 2022 si raddoppia. Le dosi da consegnare solo nella prima metà dell'anno saranno almeno 700 milioni. Vaccinare quindi resta il mantra. La stessa von der Leyen nei giorni scorsi aveva aperto alla discussione su un possibile obbligo da introdurre per i 27, un tema che inizialmente non avevamo considerato addetto ma su cui sarebbe il caso di cominciare a ragionare. In piena era variante Omicron. L'Austria, primo paese europeo a imporre l'obbligo, si appresta a far scattare la misura nei confronti di tutti gli over 14 dal prossimo primo febbraio, dopo essere passata attraverso un vero lockdown di alcune settimane. In Grecia il giorno X sarà il 16 gennaio. Per ora però l'obbligo riguarderà solo gli over 60, prevista una multa di 100 euro al mese in caso di inadempienza con le somme che verranno devolute agli ospedali. Nessun obbligo in vista, almeno per ora in Francia, lo ha escluso il presidente Macron, nonostante le cifre dei contagi siano sempre più impressionanti, ieri sono stati superati i 330 mila casi. Nella prima intervista dell'anno concesso al quotidiano Le Parisien, Macron però ha avuto parole dure contro i Novaks. Ho tanta voglia di rompere loro le scatole, ha detto, scatenando un mare di contestazioni da destra e da sinistra per un linguaggio ritenuto poco presidenziale. Ma gli osservatori politici pensano che la presa di posizione così brutale di Macron non sia affatto uno scivolone ma un preciso calcolo in vista delle elezioni di aprile, presentarsi ai francesi come il campione del ritorno alla normalità contro le frange Novaks di destra e di sinistra. In Germania ricominciano a salire i casi dopo un periodo di tregua, ieri oltre 64 mila e domani il cancelliere Scholz, che si è già detto personalmente favorevole all'obbligo vaccinale, farà il punto della situazione con i presidenti dei lender. Il dibattito è già in corso da tempo, ma i liberali, partner della coalizione di governo, restano contrari. Il prossimo 24 gennaio, giorno di inizio delle votazioni per il Presidente della Repubblica, potrebbe coincidere con il picco della pandemia, un fatto molto significativo per il corretto svolgimento del voto. Infatti una discreta pattuglia di parlamentari e rappresentanti regionali potrebbero non essere presenti perché ammalati di Covid o in isolamento. Detto questo, ancora non si intravede nessun tipo di possibile accordo politico dietro a un nome che possa andare a ricoprire per i prossimi sette anni la più alta carica dello Stato. A meno di 20 giorni dal primo voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, la situazione rimane quella di stallo. In campo rimangono i due principali candidati, l'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ma a complicare la volata tra i due c'è la soluzione del nodo Chigi. A dirlo in modo esplicito è Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, che accusa gli altri segretari di partito di spingere per elezioni anticipate. Io penso che invece vadano fatte a fine pandemia e con il PNRR impostato nel 2023, dice il numero uno di Italia Viva. Dopodiché Draghi sarebbe un perfetto Presidente della Repubblica come è stato un perfetto Premier. Se vogliamo mandarla al Colle, tuttavia, continua Renzi, serve la politica. Tradotto va trovata una soluzione doppia nel caso si puntasse su Draghi, Colle e Chigi insieme. La via Draghi, che vedrebbe il segretario Demme Enrico Letta favorevole, però agita il centrosinistra. Le correnti del PD vanno più o meno in ordine sparso, ma i mal di pancia sono soprattutto nel Movimento 5 Stelle. Dalla proposta di una donna all'appello di un gruppo di senatori grillini, 20 su 27, fanno sapere fonti interne per un mattarella bis, i 5 Stelle sembrano sbandare. Giuseppe Conte smentisce di essere stato sconfessato e in suo soccorso arriva la sua vice Paola Taverna. Mattarella non va disturbato, dice la passionaria di Grillo, ma la destra lascia perdere Silvio. Tutto rimandato alla prossima settimana, quando si svolgeranno le direzioni di PD e dello stesso movimento. Nel campo del centrodestra rimane il tema Berlusconi. L'ex Premier ci crede e continua nella sua campagna di reclutamento. Eppure i suoi alleati iniziano a mostrare i primi segnali di scetticismo a partire dal segretario del Carroccio. Per provare a forzare su Berlusconi al colle si dovrebbe arrivare alla quarta votazione, con rischio di fallire. I berlusconiani però tirano dritto, ma anche in questo caso sarà il vertice di coalizione della prossima settimana a chiarire lo stato delle cose e i reali numeri dalla parte del Cavaliere, così da evitare di spaccare il centrodestra. Matteo fermi la corsa di Silvio, qui crolla tutto il messaggio del capogruppo Dem Serracchiani a Salvini. Che l'exit strategy, ipotesi che circola da giorni possa essere un accordo su Draghi al Colle e Giorgetti a Chigi, in attesa appunto dei vertici della prossima settimana, rimane ad oggi più fantapolitica che altro. Ecco, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ieri il Consiglio dei Ministri aveva proposto un obbligo vaccinale per tutti, poco fa ha scritto che il governo Draghi ha compiuto in ogni caso una scelta importante e coraggiosa verso questo obbligo con il nostro pieno sostegno, dice Letta è la direzione giusta che serve all'Italia e all'Europa, andiamo avanti con fiducia. Ora invece passiamo alla cronaca, perché tutto fa pensare che il corpo ritrovato ieri a Trieste in una boscaglia sia quello di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni di cui si erano perse le tracce da giorni. Le probabilità che sia di Liliana Resinovic il corpo trovato ieri pomeriggio a Trieste in una boscaglia del parco di San Giovanni sono molto alte, ha detto il procuratore capo Antonio De Nicolo. Un corpo esile, rannicchiato e coperto con due sacchi neri, nessun segno apparente di violenza, ma c'è molto da chiarire, ha detto il medico legale. La giacca grigia e un paio di occhiali simili a quelli indossati nelle foto dalla donna di 63 anni, ex dipendente della regione scomparsa al 14 dicembre, sono alcuni degli elementi che portano a lei. Sarà l'autopsia fissata per lunedì a confermarlo e soprattutto a ricostruire le cause della morte, così come se la donna sia stata uccisa lì o se in quelle sterpaglie è stata portata successivamente. In serata, dopo essere andato sul posto del ritrovamento, il marito, Sebastiano Visentin, 72 anni, fotografo in pensione, si è sentito male ed è stato portato al pronto soccorso. Chi può aver fatto una cosa del genere e perché? Capisci? È tutta questa storia che aveva avanti l'uscita di casa, senza cellulari, senza borsa. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco che hanno perlustrato quella zona del bosco dove la Resinovic andava col marito a passeggiare e fare foto, un'area mai battuta dalle ricerche iniziate dieci giorni dopo la scomparsa. È stato l'amico 82enne Claudio Sterpin, da cui la donna stava andando quella mattina, come ogni martedì, a suggerirlo alla polizia. Tra loro c'era un legame d'affetto. Avevano avuto una relazione negli anni 80, si erano rivisti e avvicinati a settembre, ha raccontato l'uomo. Stavano programmando un weekend insieme fuori Trieste, ma di questa affettuosa amicizia il marito della donna sembra non sapesse nulla. Lei voleva avvisarlo il 16 dicembre. Quel giorno le avrebbe detto che il fine settimana lo avrebbe passato con me, ha detto sempre Sterpin. Il marito, Sebastiano Visentin, dice non litigavamo mai. Sono sempre più alarmanti le notizie che arrivano dal Kazakhstan, dove non si placano le proteste contro il rincaro del gas in un paese molto vasto che ne è ricco. E sull'ex Repubblica Sovietica dell'Asia Centrale rimane molto forte l'influenza di Mosca, che in queste ore denuncia ingeranze straniere e ha inviato le truppe. All'alba di una nuova giornata di protesta, accogliendo una quanto mai esplicita richiesta del presidente Katsako, Tokayev, la Russia ha annunciato ufficialmente l'invio di truppe, armamenti e mezzi aerei nell'ex Repubblica Sovietica. I primi contingenti sarebbero già nel paese in rivolta. Un intervento, secondo dichiarazioni sia di Mosca che di Astana, ha mirato a stroncare e neutralizzare i gruppi terroristici locali a cui si sarebbero affiancate bande di miliziani stranieri provenienti dal vicino Afghanistan. Una notizia questa diffusa da Konstantin Kozachev, alto esponente della Camera Alta Russa. Nella mattinata di oggi, mentre proseguono in molte aree del paese gli scontri tra manifestanti, polizie ed esercito il governo di Astana ha annunciato di aver introdotto un tetto ai prezzi dei carburanti, dalla benzina al gas, il cui recente rincaro di questi ultimi giorni è alla base della rivolta e della violenta protesta in corso. L'epicentro è la città di Almaty, dove nelle ultime ore i manifestanti hanno sferrato attacchi contro due ospedali e contro le sedi di cinque televisioni per ordine delle autorità. Sono stati interrotti almeno sino a domani tutti i voli aerei con conseguente chiusura dei principali scali del paese. La polizia nel frattempo ha confermato l'uccisione di decine di insorti e di almeno 13 agenti delle forze di polizia. Due di questi sarebbero stati decapitati. Sempre in attesa dei rinforzi russi, la presidenza Kazaka ha ordinato di intensificare la difesa, oltre che degli obiettivi strategici nazionali, di tutti quelli stranieri e delle rappresentanze diplomatiche alle aziende e delle proprietari conducibili agli investimenti stranieri. L'obiettivo è mettere il più possibile in sicurezza le strutture principali del paese, il più grande per estensione dopo la Russia dell'Asia centrale. Mentre la violenza sembra destinata ad aumentare, si pensa in prospettiva già ad una missione di pace a guida russa che coinvolga i paesi aderenti alla CSTO, l'Organizzazione per la Sicurezza Collettiva di cui fanno parte, oltre a Mosca, cinque ex repubbliche sovietiche, una missione comunque al momento difficile e che, data la situazione, potrebbe richiedere almeno un mese di operazioni. Esattamente un anno fa l'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump da lui fomentati. È stata una pagina davvero buia della storia americana, anche se non sembra che sia stata così percepita da una larga fetta dei cittadini che ancora continuano a pensare che l'elezione di Joe Biden sia illegittima e che quanto avvenuto sia lecito. Ad un anno dall'assalto a Capitol Hill, i fatti dimostrano che il più grave attacco alle istituzioni democratiche nella storia degli Stati Uniti ha portato acqua al mulino di Donald Trump. Il 71% degli elettori repubblicani dicono i sondaggi, crede che sia lui il vero vincitore delle elezioni nel 2020 e un americano su tre. Ritiene adesso giustificabile l'uso della violenza contro il governo, le sue cariche, i suoi ordinamenti percentuale che nel partito conservatore sale al 40%. La nazione insomma è ancora più che mai divisa, la profonda ferita inferta 12 mesi fa è ben lontana dall'essere rimarginata e la presidenza Biden non ha agganciato un consenso popolare tale da avviare quella riconciliazione nazionale, parola d'ordine assoluta all'esordio della nuova amministrazione. Joe Biden ha chiuso il 2021 ai minimi di gradimento col 56% negativo e cosa peggiore è l'economia, il motivo dello scontento, l'inflazione minaccia i ceti medi e il welfare, il mastodontico piano per il rilancio delle infrastrutture è fermo in Parlamento, mentre con meno del 70% di vaccinati la pandemia è a livelli record. A novembre le elezioni di mid-term saranno cruciali, Trump punta a espellere dal partito dalla moderata per eleggere un gruppo di fedelissimi, se ci riuscirà e uno o entrambi i rami del Parlamento andranno sotto controllo repubblicano scatterà subito il piano operativo per tornare ad agguantare la nomination nel 2024. È in questo quadro che ieri il tycoon ha annullato la conferenza stampa della sua residenza in Florida, la commissione d'inchiesta sul 6 gennaio è faziosa, sostiene, e i media nasconderebbero il fatto che Nancy Pelosi rifiutò allora l'intervento dell'esercito a difesa di Capitol Hill. Tra poco invece Biden si rivolgerà agli americani. Alcuni passaggi del discorso già si conoscono. Saremo un paese che considera normare la violenza politica, chiederà. Permetteremo ai funzionari elettorali di parte di rovesciare la volontà legalmente espressa dal popolo? Il Presidente esorterà tutti a riconoscere la verità e a non vivere all'ombra delle bugie ancora propagandate da Donald Trump e da chi lo sostiene ricordando l'orrore di un anno fa a Washington, quando proprio in queste stesse ore gli Stati Uniti vivevano uno dei momenti più bui. Stati Uniti che come il resto del mondo vivono delle grandissime incertezze economiche dopo due anni di pandemia e adesso questa nuova impennata rischia di rifrenare la crescita che seppure c'è. È arrivato a 82 dollari al barile questa mattina il Brent. Non una cifra record. Prezzi simili li avevamo già visti a metà ottobre ma indicativo del fatto che messa, sembra definitivamente da parte la stagnazione, i prezzi delle materie prime ma non solo sono ormai decisamente in rialzo. Certo, nello specifico il Brent è salito anche a causa delle rivolte kazakh ma la sostanza non cambia. È cambiato invece il mercato, quello statunitense sicuramente il nostro segue. Anche se non sempre le borse rispondono entusiasticamente. Male ieri Wall Street, male le asiatiche questa mattina, flessione pesante anche per Milano. All'origine la diffusione dei verbali della Fed, la Federal Reserve, ovvero la banca centrale statunitense. Nei verbali si faceva presente che stante il rafforzamento dell'economia e la ritrovata vivacità del mercato del lavoro, probabilmente nei prossimi mesi, verosimilmente già da marzo, la Fed potrebbe aumentare i tassi di interesse, smettendo quindi di supportare la ripresa. Insomma, è venuto il momento di ridurre gli stimoli monetari prima di quanto immaginato. Il che ci porta ovviamente a guardare in area euro, dove invece gli acquisti di titoli da parte della BC non si sono ancora interrotti, ma si teme anche qui una stretta e dove l'inflazione, al contrario, viaggia decisa. Più 4% a dicembre in Italia, ad esempio, quasi il doppio della soglia stabilita dall'Istituto di Francoforte. E questo, peraltro, al netto dei nuovi rincari sulle bollette di luce gas che ancora non sono stati contati. Comprensibile dunque la preoccupazione per il potere d'acquisto delle famiglie, non solo per la coincidenza con il periodo di saldi, ma con una ripresa appena avviata e che rischia di non consolidarsi. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, al ritorno vedremo le notizie sportive e anche eventuali aggiornamenti. A tra poco. Eccoci di nuovo qui. Allora, ripartiamo dal campionato di calcio fortemente condizionato dalla pandemia. Oggi su dieci incontri saranno infatti ben quattro quelli annullati a causa della positività di molti giocatori. Più che un girone di ritorno, quello iniziato oggi sembra essere un girone senza ritorno. La serie ASL, come molti l'hanno già ribattezzata, è nel caos più totale. Una guerra di posizione tra entità diverse dove ognuno vuole imporrere le proprie regole. La risultante è che delle dieci partite in programma ben quattro non verranno giocate, dal momento che le ASL di Bologna, Torino, Salerno e Udine hanno vietato alle rispettive squadre di pertenenza di scendere in campo, a prescindere se queste fossero impegnate in casa oppure in trasferta. Prevedibili ricorsi ai vari tar regionali con cui annullare le inevitabili sconfitte a tavolino. Tra le gare che non si giocheranno c'è Bologna-Inter, il cui rinvio potrebbe permettere alle inseguitrici della capolista di riavvicinarsi virtualmente ai nerazzurri. Questa mattina, in uno stadio dall'ara deserto, gli uomini di Simone Zaghi hanno giocato una partitella a sciogli tensione. Ma per la Lega Calcio non si deve parlare di rinvii, poiché i formalismi sembrano avere la priorità sulle questioni pratiche. Al termine della riunione d'urgenza tenutasi questa mattina a Milano, si è deciso procedere col protocollo europeo che prevede la disponibilità di 13 calciatori tra la rosa di prima squadra e quella della primavera. I club chiedono poi la limitazione della competenza delle ASL per stabilire linee guida univoche tra il mondo del calcio e il governo. Quel che resta di questo ventesimo turno propone una coda interessante per quanto riguarda l'alta classifica, con un Milan che ospiterà la Roma in una situazione di piena emergenza dopo le ultime tre positività emerse ieri nel gruppo dei titolari e che vanno ad unirsi alle assenze di Chessy e Benazer impegnati in Coppa d'Africa. Così Stefano Pioli si ritrova senza difesa e con Zlatan Ibrahimovic recuperato ma non certo al meglio. Di contro una Roma e formazione tipo grazie anche al recupero di Capitan Pellegrini che potrà così puntare al colpaccio con cui recuperare i troppi punti persi nel girone d'andata. In bilico ma per ora confermato l'attesissimo posticipo serale tra Juventus e Napoli. Problemi in difesa anche per Max Allegri a causa della positività di Chiellini e dell'indisponibilità di Bonucci. Un Napoli senza il suo tecnico Spalletti in panchina invece punterà tutto sull'orgoglio del suo capitano Insigne che dopo l'accordo milionario sottoscritto con i canadesi del Toronto potrà essere d'ora in poi nel mirino della delusa tifoseria partenopea. Per quanto riguarda le partite in corso al momento il Cagliari è in vantaggio a Genova sul campo della Sampdoria 2 a 1. Ora il caso Djokovic. La parola fine verrà pronunciata soltanto lunedì prossimo quando i giudici australiani metteranno il loro giudizio in merito al ricorso presentato dal tennista serbo contro l'espulsione dal paese. Djokovic nel frattempo è stato alloggiato in un albergo dove in quanto non vaccinato rimarrà in isolamento. Per quanto riguarda invece il tennis giocato sempre dall'Australia arriva la notizia dell'eliminazione dell'Italia dalla T-Cup di Sydney. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Russia per 2 a 1 dopo la vittoria di Sinner su Saifullin numero 167 della classifica ATP. Sono arrivate due sconfitte. Nel singolare Matteo Berrettini si è dovuto arrendere di fronte a Medvedev numero 2 del ranking mondiale. Sconfitta anche la squadra di doppio. Berrettini e Sinner si sono arresi in 3-7 alla coppia russa. Scusate, ora vediamo invece in modo più esteso la vicenda di Djokovic. L'Australia ha deciso di ritardare l'espulsione del numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic che ha presentato ricorso contro il respingimento del visto d'ingresso per violazione delle regole australiane contro la diffusione del Covid. La decisione sul tennista serbo, rivela un avvocato dello Stato australiano, Christopher Tran, viene rimandata a dopo l'udienza finale sul caso fissata per lunedì prossimo. Djokovic resterà in isolamento in uno degli alberghi adibiti per queste esigenze sino alla sentenza. Niente suite 5 stelle quindi per il serbo e il suo staff con la possibilità di allenarsi solo in stanza. Ginnastica da camera quindi, niente tapirulane naturalmente senza poter uscire. È il tie break più duro che abbia mai giocato. Djokovic è il numero uno al mondo non per caso. La sua capacità di concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere è superiore a quella degli altri tennisti. Un vero automa ma anche le macchine si possono inceppare. Sulla questione ha preso posizione Dusan Lajovic. Anche lui serbo in Australia per l'ATP Cup. Siamo tutti con Nole, ha detto. Siamo tutti solidali. Il mondo del tennis però si spacca. C'è chi vuole porre l'accento sui diritti umani e su come Djokovic sia stato trattato al suo arrivo all'aeroporto di Melbourne forzandolo in isolamento con il cellulare requisito e chi invece ricorda che esistono delle regole dichiarate a tempo debito che vanno rispettate. Rafa Nadal è fra questi. Ha fatto le sue scelte, ha commentato Nadal. Ognuno è libero di prendere le proprie decisioni ma poi ci sono le conseguenze. Non mi piace la situazione e mi dispiace per lui ma conosceva le condizioni per poter giocare da molti mesi. Nadal che ha contratto il Covid del mese scorso ha detto di essere un grande sostenitore dei vaccini definiti come unica arma per arginare la pandemia in cui tante persone sono morte. davanti ai giornalisti ha poi confessato di non essere affatto sorpreso per la reazione indignata di gran parte degli australiani dopo il posto pubblicato da Djokovic in cui il serbo affermava di aver ottenuto un'esenzione per poter giocare gli Australian Open. Si conclude così il nostro telegiornale. Io vi ringrazio ancora per essere stati con noi e arrivederci e a domani.